Combattere la discriminazione e l'odio razziale nei confronti dei Rom e Sinti in Italia. E' nato con questi obiettivi il primo partito nazionale Rom, Misti P. Le fondatrici sono tre donne Rom italiane, attiviste per i diritti umani, impegnate da sempre nella lotta antidiscriminazione. All'interno del direttivo la molisana Sara Cetti, di origine esirnine, già presidente dell'associazione Rom in Progress. Misti P nasce infatti dall'unione dei Rom abruzzesi e molisani italiani di antico insediamento per dare dignità al popolo Rom e Sinti, considerato straniero a casa propria, che troppo spesso viene usato come capo espiatorio, soprattutto a scopi politici, riferisce la presidente del neo-movimento Giulia Di Rocco. Il partito nazionale Rom e Sinti è la risposta alla soluzione di un problema che non è più soltanto né culturale né sociale, ma bensì politico, e che si delinea con un vero e proprio programma. Il programma che abbiamo è quello di avere un riconoscimento come minoranza linguistica, una parità tra uomo e donna, avere una rappresentanza nel quadro politico che adesso i Rom non hanno, anzi nasce proprio dall'esigenza di colmare questa lacuna, il partito Misti P, e anche per dare una parità a livello politico e democratico anche ai cittadini Rom, che non sono mai rappresentati o quantomeno quando si parla di Rom nessuno mai li difende. Ma la vera novità è il direttivo la cui maggioranza è costituita da donne Rom. Un'unione voluta fortemente anche per dare una rivalutazione a quello che è l'universo femminile, in pratica il mondo femminile si guarda sempre per la tradizione culinaria, per il modo di vestire, ma mai come persone, elementi attivi della società o persone che possono essere prese d'esempio. E con questo noi vogliamo dimostrare che siamo alla pari dei uomini e che quindi riusciamo anche a portare avanti un partito politico.